ciao a tutti oggi prepareremo la crema pasticcera al caffè il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono caffè espresso amaro latte intero uova farina di tipo doppio zero o amido di mais vanillina e zucchero semolato diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina di tipo doppio zero o amido di mais la vanillina il latte le uova il caffè espresso amaro azioniamo il bimbi per 8 minuti 90 gradi velocità 4 la crema è pronta trasferiamola in una ciotola copriamola con pellicola trasparente a contatto e lasciamola raffreddare crema pasticcera al caffè ideale per guarnire torte bignè crostate o come dolce al cucchiaio si conserva in frigo per due giorni coperta con pellicola trasparente a contatto grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti